E' con una lettera al prefetto di Treviso, al questore, al procuratore della Repubblica e alla Digos che il presidente dell'AMPI provinciale Giuliano Varniera ha voluto denunciare i recenti episodi di ostentata esibizione in alcuni locali aperti al pubblico della provincia di propaganda smaccatamente fascista. Tutta una serie di osterie, ci sono cimelli fascisti, bottiglie con l'immagine di Mussolini e addirittura anche manganelli con scritto io al duce insomma e quindi è quasi un incitamento alla violenza, poi ci può essere qualcuno che la violenza la esercita davvero. Scritte e fettici che inneggiano talvolta la violenza all'apologia del nazifascismo, simboli illegali che non devono essere sottovalutati secondo l'AMPI in un territorio che è conosciuto da vicino il fenomeno dell'eversione nera. Da qui partì l'inchiesta e i gruppi collegati a Piazza Fontana e quindi non c'è da stare tranquilli, è per quello che abbiamo scritto al prefetto. La marca è stata insegnata della medaglia d'oro per l'attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale, non possiamo tollerare, conclude Varnier, questa inqualificabile propaganda. Non vogliamo che episodi tipo fascista si manifestino ancora perché il paese ha già pagato troppo per questi fatti e per il fascismo.